Ragazzi, io sono incredulo, hanno creato la mappa di Hit su Fortnite, una cosa che non pensavo succedesse, ma invece è successa E come mi conoscete, io sono molto molto sensibile agli horror, ma oggi proveremo a non morire Perché, sì ok, ci dobbiamo salvare, ma io non voglio morire di infarto, quindi proviamo, andiamo, mettetevi comodi e vediamo come va Ragazzi, allora, adesso vi spiego bene come funziona, però io veramente ho paura Qua innanzitutto troviamo pure la scritta Hit all'inizio, questo posto molto molto oscuro Che non mi fa impazzire, cioè, in verità mi crea molto molto a poro, no ragazzi, un cimitero Oh my god, no, il cimotoro no, tutto tranne che il cimitero, qua abbiamo pure delle Ragazzi, ma lo sentite pure voi questo? Cioè, questo tipo di fischio, raga, non lo so, mi dà un botto fastidio ed è molto molto creepy Qua c'è l'entrata, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere 15 coins, 15 monetine diciamo in italiano E per non farci scoprire, per non farci mangiare, comunque per non farci uccidere da Hit Bisogna prendere queste 15 monetine, ragazzi, io starò attento, però ho veramente una paura pazzesca Io adesso, raga, vado, eh, vado Eeeh, fermo, 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 lo so che sono in un momento un po' inopportuno Però mi raccomando, metti Reiki e iscriviti, perché è gratis, non costa niente Inoltre, usa il mio codice nello shop, il codice più bello e più figo al mondo, il codice può ua Perché tanto è gratis, non costa niente, quindi ti lascio al video Scusami per l'interruzione Allora, innanzitutto, qua c'è una entrata No, eh, ancora, ancora, vuoi, no, ancora, vai, prego Sì, 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 dai, sì, Beethoven, ragazzi, abbiamo Beethoven Abbiamo, abbiamo Beethoven qua, dai Basta Abbiamo Beethoven Era nera prima con la TV Oh, oh, basta, cos'è sto coso, basta Ragazzi, abbiamo, c'era Beethoven Allora Io spero Oh, ecco qua, una monetina Let's go, l'abbiamo trovata una Su 15 monetine, ragazzi, una l'abbiamo trovata Let's go Ok La tua entrata in una nuova zona Deve essere sicuro che hai collezionato 7 monetine Prima di entrare Ragazzi, non abbiamo, non abbiamo Non abbiamo 7 monetine noi, non lo so dove sia Eccolo qua, una Let's go, ok, ce n'è un'altra Magari saltiamo via qui Questa è la tele Non la posso spaccare No, non posso spaccare le cose, raga Non posso spaccare Attenzione Perché Qua le coins Io non ho veramente idea di dove siano Ne trovo una lì C'è una qua, c'è una qua, raga C'è una qua Però io mi sa che non ci posso arrivare Di lì Devo, devo andare in un'altra stanza Allora, qua Cos'è che c'è Very scary Scary Not scary at all Vabbè, fa niente Non I don't capisci Non capisci Che è? Oh Ragazzi, ho i brividi Ragazzi, non so se si vede Comunque Ho i brividi No, niente Non si vede Ragazzi, ho i brividi Cosa trovi al circo? What do you find at circus? Cosa trovi al circo? Quelli che non usano Nenco di cipo No, ovviamente Sto scherzando Mi dissocio E Ok Ok Un'altra monetina Ce l'abbiamo Però, raga Noi abbiamo Quattro monetine Tra quattro No, ne abbiamo tre di monetine Non ne abbiamo Sette Noi Dobbiamo trovare sette Non lo so, raga Non so dove si trovano Non ho idea Ma si può spaccare Ragazzi, non si può spaccare Niente qua Il problema è che io qua Non ho capito Cosa bisogna fare Cioè Cosa trovi al circo? E qua c'è un No Cosa è che trovi al circo? Raga, cosa è che bisogna trovare Al circo? Oh Io già risposto Sono quelli che non usano Il codice Pogba Secondo me sono quelli Sono un po' Però Non ho idea, raga Non ho veramente idea Forse dobbiamo aprire Queste porte Ah, ma Noi abbiamo una torcia Vabbè, ragazzi Sono stupido Scusatemi Ho una torcia Ok, sì Qua non Non abbiamo niente Ragazzi Cioè non ci serve La torcia in questo momento Ok, raga Io sono uscito Perché non ho trovato niente Non si può trovare niente All'interno Bisogna Ma Quella lì Vabbè Dopo ci andiamo Bisogna trovare Sette coins Sette monetine Prima di andare In questa casa Quindi io direi Proviamo ad andare Non ho idea Non ci fa passare Ok, niente Non ci fa passare Bruta scelta Non ci fa passare Qua ho già provato Non ci fa passare Neanche qua Io penso che Tipo dobbiamo fare Parkour Però non so come Com'è che facciamo A farlo Parkour Raga Io non posso spacchiare Come facciamo A fare parkour Così Oddio così What Uh Let's go Let's go Abbiamo presa una E qua raga Ci manca questo Ci manca questo Cosa dobbiamo fare qua Questo posto Cos'è Ho visto qualcosa Di lucicante Forse era una monetina Dov'era Qua Let's go Un'altra trovata Ne abbiamo 5 Abbiamo 5 monetine Raga Quello che ci resta da fare È andare in questo viale Perché Altre monetine Lì non ci sono Quindi magari Possiamo trovare Delle monetine Qua intorno Ok Qua c'è un buco nero Quindi non possiamo andare Raga di là L'unica scelta è di là Oddio c'è una casa E se io vi giuro Ho un botto di paura C'è una casa qua C'è una casa Ok Delle macchine Va bene Ci sta le macchine Non mi piace Oh Tu sorella Spavento Ok Allora Qua c'è qualcosa Sì possiamo entrare Monetina 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 Niente non c'è una monetina 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 Non c'è nessuna monetiva Monetina Ok Sotto la scala ci sarà qualcosa No Niente Non c'è assolutamente niente Ragazzi qua Qua ci saranno per forza Due Due monetine Per forza Ok Ce n'è una qua Let's go Let's go Abbiamo 6 monetine Ragazzi ce ne manca una Ce ne manca una Manca una Bruttissima Monetina Però io non so dove è Ragazzi Non so veramente dove sia Ragazzi io non ho veramente idea di dove sia Oh Oh cos'è Oh let's go Let's go l'ultima No ragazzi non ci voglio credere Veramente l'ho trovata così a caso Let's go Andiamo abbiamo 7 monetine Ragazzi dobbiamo prendere Le altre monetine che ci restano Che sono qua dentro In questo posto qua Mi fai andare ragazzi Finiamo Aspettiamo che finisca Beethoven Ok ragazzi Ci siamo Ho finito Beethoven Dopo ben Penso tipo 30 secondi E Ragazzi io vado eh Io vado Questo qua è un posto Dove È tipo un tunnel Ok Ok ragazzi C'ho paurissima Qua ci posso andare No Eh è tutto bloccato Non posso andare da nessuna parte Qua Qua allora no Esatto Cos'era Ah ok Mi sono salvato Penso Ragazzi c'è un pozzo Ragazzi c'è un pozzo Io ho paura di questo pozzo Io non è che muoio Spero di non morire Vai Aggrappati 79 di vita Ok Qua ragazzi Ci sono delle fogne qua Ci sono delle fogne queste Infatti Guardate le fogne Posso tipo saltare così Yes Ok Qua penso non ci sia niente Ragazzi a me comunque Statarci qua è un po' inutile Secondo me Ragazzi io vado giù E non ho niente da fare Vado giù perché qui non c'è niente E mi do curare Devo un attimo tirare qualche benda Anche perché Se prendo un altro danno da caduta Probabilmente muoio Quindi abbiamo 75 di vita Qua non c'è assolutamente niente Io direi di andare qua Mamma mia ragazzi Ho pochissima vita Devo continuare a fare le bende Perché se no sono morto Allora vediamo questo posto È una fogna Lo sappiamo tutti che ho una fogna Spero di non trovare topiche Mi fanno abbastanza schifo Facciamoci l'ultima benda Ehm Voglio visitare sta Sta fogna qua Vediamo un attimo Allora Don't be four Don't enter Before you have Dieci cose Non dobbiamo entrare Prima di avere Dieci Molute Ok Allora andiamo qua Da questa parte No penso sia tutto a posto In questa parte qua Quindi sia molto molto tranquillo È un labirinto Bello e buono Ragazzi Oh Oh! 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 Oh!